Ciao, sono Mirko, vengo da Covo, frequento il liceo Galileo Galilei, indirizzo Scienze Applicate. Scegliere questa scuola soprattutto è stato mio fratello, che anche lui ha frequentato questo liceo, lo stesso indirizzo, e me ne ha sempre parlato bene, mi ha sempre avvertito che era una scuola difficile, però è stato uno dei principali motivi. Sì, l'accoglienza inizio anno è stata molto positiva, i professori non tutti sono arrivati subito, però entro una settimana sono arrivati tutti, un'accoglienza buona, molto buona. Sì, sono molto felice dalla mia scelta, non la cambierei assolutamente. Con alcuni compagni ovviamente è stata subita amicizia, con altri ci è voluto un po' di tempo, però come tutto prima o poi si instaura un rapporto di amicizia, con chi appunto prima e con chi dopo. Della scuola mi piace che offre delle attività, progetti fuori dall'ambito scolastico. Grazie. Grazie.